E siamo giunti alla settima road to città di Napoli, Ippica Nazionale, sono indiesi, Zingaretti, Zivago, Zibibbo, Zio Tom, Zelante, Zar, Ziosauro, Zephirgar, Zaren e Zlatan, quest'ultimo il più gettonato, dopo due buoni rientri in questa settima del convegno. Allineamento che gradatamente va a completarsi, via la macchina in velocità, Zardangal a largo impegna severamente Zibibbo, galoppa Zardangal, freeway per Zibibbo, che all'attacco della piegata va al comando. Il 6 a tabellone, l'1 ha anche avuto problemi, ne è successo un po' di tutti e ne approfitta Zelante, con il solito Robby vecchione, a venire via. 15 e un po' di spiccioli, è partito bene anche l'allievo di Minopoli, che prende la scia di Zlatan. E Zlatan viene a chiedere strata, freeway classico, stra-classico, 30 per i primi 400 e va al comando. E' così il favorito con Alex Gocciadoro, il giallo personificato, 1,69 la quota, al comando. Frazione in 14,6, e così ora amministra, si migliora Zephyr Gar, e Zephyr Gar va al salchi di Zlatan. Cavali al completamento anche di questa piegata, leggiamo la frazione, 15 e mezzo di tutto riposo, a largo Zivago, nella scia di Zephyr. Si va al completamento e chiusura del primo chilometro, da parte dell'Ire Zlatan, nell'ordine del 14,8 sul mio. I cavalli affrontano la penultima curva, non ci sono variazioni sostanziali. Con il leader, ora attaccato severamente da Zephyr Gar, 14,7. E Zephyr Gar ora rientra nuovamente e va a parcheggiare per riprendere fiato, poiché Zlatan è ripartito. Infatti la frazione di fronte se ne va in 13,8, 28 scarsi questi 400 metri. I due hanno preso netto vantaggio, i cavalli affrontano la curva finale, Zlatan, Zephyr Gar si giocheranno la vittoria. Ancora 1,14,4 ai dei frazioni, 1,57 e mezzo il miglio. Con Zlatan in chiaro vantaggio, ma Zephyr Gar si ripropone. Retta d'arrivo, Zlatan ha il comando su Zephyr Gar, ci prova Zephyr Gar. Zlatan ha il comando, Zephyr ci prova. Lotta incerta tra i due, i cavalli, Zephyr, 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 canta Napoli, Zephyr Gar. Ottimo terzo, Ziosauro Jet. Canta Napoli per il primo e per il terzo, signori. Io ho due 27,9 sul mio cronometro, ma corre alla grande anche Zlatan. In preparazione di questo città di Napoli, tre fiori puledri, se li vogliamo ancora chiamare puledri, ma la differenza l'ha fatta Zephyr Gar con il francesino e tutto il suo team. Alla grande anche l'altro napoletano, Ecezio Sauro Jet, che porta a casa un'ottima terza moneta. Signori, è tutto per il momento. A più tardi.